eeeh dov'è caspita quante mappe ci sono 1 2 3 4 devo scaricare ancora questa 137 137,8 questa è nuova poi ci sono altre 1 2 3 4 altre 4 qui questo è nuovo allo stesso mini zone poi qua altre due mappe cazzo su fortnet ce n'è solo una che facciamo andiamo in solo da eeeh che bella schermata enorme vabbè scendiamo è da un bel po' di mesi che non gioco a fa bugie chissà cosa tutto è cambiato la mappa non vedo cambiato molto ma vediamo oppa vai corri subito dentro no non la voglio questa eeeh questa qui aspetta com'è che si fermava ok oh accidenti com'era eeeh non me lo ricordo più no cosa mi sta facendo eh non ricordo più i tasti mi dispiace no non 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 no non Grazie. Come erano i tasti, porca troia. Allora, queste non mi servono, queste non mi servono, allora mi servono le 9 e le 5 ma per questa qua mi serve un mirino. Oh oh oh, hanno già richiamato la frega. Qua non si usa saltare. Se ti vedono saltando qui, ti prendono prima un colore. Grazie. 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 super bugina qua ti tagli formaggio non capisco perché la mappa non apre per capirlo a mano M però con la M non apre agli formaggio non capisco grazie a tutti Grazie a tutti. No, devo impostare bene il tasto allora, c'è qualcosa che non va. Oh, siamo vicino a Puccinki. Ops, qua Puccinki sarebbe come su Fortnite. Non mi ricordo il nome, caspita. Siamo messi male, lo sapete? La farò arrivare lì, per forza. Per forza. C'è la zona rossa, se non sapete cos'è, adesso lo vedete. Quindi questa. E non chiuda la porta. C'è la zona rossa. È strano che non apre la. La mappa. E controllarla adesso è un casrino. Posso solo fare così, col mouse. E cliccarci sopra. Però per togliere la funzione. Allora. Per ritogliere la funzione. E abbiamo poche pallottole. Perchè ti apri? Oh, meschino, ma non c'aveva niente. Ah, no. La padella. C'è la roba che aveva questo. Anche il giubbottino da tre aveva. Un mini 14. Però non c'aveva il mirino. Eh sì, là in fondo vedo uno. sì, là in fondo vedo uno. Sì. 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 vediamo come siamo messi oh non mi ero accorto ho lo zeno da livello 3 ho quello però tutto l'altro è livello livello 2 a vedere eh si il giubetto è livello 2 il casco è livello 1 proprio si vede qua giù il parco se mi prendono in testa ne ammazzano solo livello 1 ah di nuovo la zona rossa non mi prendono in testa Grazie. sicuramente l'ha presa è passato uno con la moto sicuramente la tempesta l'ha presa siamo 8 adesso si riduce tutto qua allora fammi studiare un po' la situazione sì, dovremmo salire su quelle montagne fa vedere qua non penso che si chiuda se no dobbiamo attraversare il mare sì, conviene andare nel punto alto spero che non ci sia già qualcuno fare bene perché qua dentro siamo in una trappola se passa qualcuno e si accorge ci getta qualche bomba da, ma si da vediamo sì, dovremmo salire peccato non avere un mirino questo prende solo in vicinanza sì sì, dovremmo salire eh, con un mirino quello lì l'ha presa accidenti accidenti ahia prometto che va nel punto alto ma così cieco e dovrei avere culo sono proprio nel punto rosso eh sì, penso che ci lascio le perne fai vedere scasso, proprio da me è la terza volta che viene proprio da me ecco eh, a due metri mi esplosa a due metri dobbiamo andare verso lei ok, finito andiamo ok, finito Caspito Medino 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 Buono Vabbè ragazzi, vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo video, lasciate like se è sempre apprezzato, ciao ciao.